e bentornati qua ragazzi nel mio canale youtube come sempre prima di iniziare il gameplay vi vado a ricordare che giù in descrizione se viva potete acquistare questo e tanti altri giochi scontati in descrizione anche trovate i miei canali social come ad esempio tik tok twitch e disco dove vi invito a passare in disco per rimanere aggiornati sulle notifiche che delle volte youtube non manda le notifiche come sempre siamo oggi siamo con stefane tausa ciao allora ragazzi cosa si fa oggi beh dobbiamo continuare qui un discorso abbellimento stalla cioè perché comunque la stalla l'ho fatta che adesso magari ovviamente vi faccio vedere che l'ho modificata e tutto quanto ho fatto un po off camera in questi giorni qua ho messo tipo un vetro ho fatto tutto di vetro ho fatto una stradina e questa è la stalla giustamente comunque scusate se oggi sentite un po di di casino diciamo ma teoricamente non dovreste sentirlo però se lo sentite portate pazienza insomma comunque allora stefane se vuoi cominciare da qua tipo a mettere cose ti puoi mettere questi teoria ti li ho dati se vuoi metterli già io comincio già da giù così almeno mi porto un po avanti allora raga io parto da qua così almeno facciamo un po le cose come si devono io ho già sbagliato vabbè non ho problemi comunque ne ho fatti un botto cioè con il discorso quello la che impara le cose ne ho fatti veramente tante ok qua ho sbagliato misura mi sembra comunque non ho problema posso fare così 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 ok mi metto su dritto così almeno recintiamo un po tutto no perché tanto la fine questa è nostra cioè anche di guys e così via e quindi bene che è stato l'hai caduto si ok bene molto bene allora ok allora ti vado fino su stai così ti vado verso casa tua si ok allora intanto mi posiziono la roba due volte vabbè dettagli ma non ci facciamo domande e poi quello che ho sbagliato lo raccolgo non ti preoccupare no problem poi ovviamente ci mettiamo anche i cancelletti ragazzi ai cancelletti poi li vado a fare ok perfetto ragazzi almeno siamo arrivati fino giù ok siamo arrivati giusti così almeno è tutto un dritto no anche se qua magari uno lo lascio aperto magari tipo questo lo lascio tipo aperto che se voglio passare con le mucche per l'appunto sono aperto ok adesso vado su vediamo cosa che me l'hanno fatto ste ok perfetto ci sta adesso io qua anche qui vorrei recintare perché se no le mucche giustamente vanno in giro dall'altra parte alza le d2 se riesci perché poi le mucche saltano è un casino ma si bene toglielo toglielo tranquillo allora io poi intanto faccio già da 2 faccio già gli alzi di 2 perché poi le mucche vanno in giro quindi è un problema no vanno in giro poi mi tocca sta lì a diventare matto a cercarle teoricamente da 2 non dovrebbe essere un problema più però anzi forse meglio farlo da 3 che da 2 però insomma vediamo ragazzi si sto un po continuando mentre faccio qualche taglio qua e là ovviamente giusto per non annoiarvi troppo ok direi che come più o meno misura ci sta anche qui trovi un po effettivamente posso buttarla giù qui ecco quello fatto intanto qui posso buttare giusta roba che effettivamente non mi serve cosa la tengo a fare sta roba la tengo per bellezza ah intanto finchè se ne occupa ste io quasi quasi prenderei anche sta pietra ok e metterei questa terra qua così almeno facciamo tutto pandan insomma ok ce lo dovrei fare con ok qua mettiamo questo ok a posto ragazzi allora vediamo mettiamo anche questo qui ok anche queste pietre che sono qui perché fa schifo sennò allora vai ok allora adesso vado a prendere due cancelli così vedo poi cosa fare qui eventualmente può essere che ci faccio un muro non so vediamo un attimo poi magari giocandoci off camera appunto mi riesce meglio insomma a fare cose salve signor squitto eh si sono molto amichevoli quelli allora io devo imparare un po' di roba con l'MC imparo la terra questo che mi ho avanzato anche questo questo no tu tu e anche la carne si lo vado a imparare ma questo non si può al momento la pietra ok cosa che mi serve a cancelli cancelli ok ne prendo un bel po' ne prendo boh penso che 64 mi basti no allora esatto prendo anche il fieno credo che si chiami fieno in italiano credo io no si ok eccolo qua balle di fieno ne prendo un pochetto ok intanto stefanetto fa qualcosa con qualcuno non so cosa allora adesso andiamo giustamente a mettere le balle di fieno stefanetto ce l'ha quei cosigni ok bene allora ok si però appunto adesso vedete un po' cosa vorrei cosa avrei in mente di fare raga perché visto così fa schifo lo so però non ho idee chiaramente anzi se voi avete qualche idea o fatelo ce l'ho fatelo eh quella roba lì si fatelo sapere insomma allora ok perfetto tipo così poi due le metto qua ok giusto un po' di appellimento ok così almeno siamo sicuri che anche le mucche non vanno sopra e teoricamente si possono andarci quindi effettivamente queste non ci stanno ok uno due tre un po' sparse a caso e non devono essere perfette giustamente anzi più sono sparse a caso meglio è tanto chi è che mi notifica non lo so però va bene salutiamo anche quelli che mi notificano che sono sempre carini c'è chi non sa che registra però la maggior parte meno male lo sanno ovviamente alcuni non lo sa allora mettiamo un po' di roba tipo qua tipo qua uno qua uno qua ah questo si è bello eh no 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 ne posso ririri mi ririrmi eh le mucche forse non vanno fuori però non lo so vabbè adesso vi faccio vedere invece la grotta che ho fatto off camera adesso non la faccio vedere mi sa che quando un tuffetto è lì qua eh vabbè qualcuno fa comunque ecco questo è il diciamo il discorso ripostiglio balle facciamo finta no? anche giustamente bisogna fare finta al fine è un gioco quindi bisogna fare finta sì bene coach ovviamente sì ovviamente v'ho fatto finta v'ho fatto un po' intuito ragazzi bisogna avere un po' di fantasia anche su minecraft comunque se no ovviamente diventa sempre quello ok perfetto raga anche qua metterei un po' così tanto per fare un po' di ok cosa dici moreno? ci stanno bene? cosa? eh sì ci sta ci sta ok mettiamo anche un po' qua ah boh un giro che dici? ma magari questo fa no ok adesso questa mi serve un banco da lavoro tu ce l'hai? da? ok se lo metti da qualche parte che poi ah non ho capito ci ho detto un banco da lavoro lo devo fare? ok ce l'hai da fare? e se mi ricordo come si fa sì vabbè cipolla intanto vediamo se no vado vabbè se no tranquillo vado un attimo in casa lo faccio ok allora arrivo eh aspetta un attimo ok qua ho fatto un casino no no cancellami questo cancellami questo ok perfetto anche di qua quasi quasi farei così ok piccolo lagattino c'è intanto che quello non può mai mancare giustamente eh che ce ne proviamo dalle lagattina? ok fatto allora teoricamente il grano si fa così oh ah no con due? ok con una addirittura ok pensavo peggio allora te ne do un po' anche a te e direi che eh ecco ti guardi vabbè te l'ho buttato un po' lia si allora andiamo un po' da sta parte vediamo se troviamo qualche eeehm mucca no? sicuramente sicuramente ma questa parte ce ne dovrebbe essere un po' allora non ne vedo una oh ne vedo un paio qui ooooh venga 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 venite venite venga venghino signori venghino venghino signori venghino 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 non faccio la timida venga 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 signorina signorina questo la chiamerò guys signor guys allora venga venga signor guys venga venga che qui tutto fa brodo venga venga allora venga venga su su facci le scaline come le faccio io che anche lei le può fare allora ok venite venite venghino signori venghino a mio minore mi dissocio vediamo se ce la faccio ok fatto ok uno è dentro perfetto ok già 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 la faccio a copiare una però qua intanto chiudo finchè non arrivi sennò è un casino qua sennò escono in continuazione comunque è vero sì effettivamente quelle balle la che ho messo così escono quindi ne vado a togliere un attimino giusto per per sicurezza insomma tanto troverò questa qua signora mucca è morrivo 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 ma c'è la mucca che ha fatto la fugga ho visto ma dopo adesso metto due cancelletti posto di uno ne metto due c'è la mucca con calma ok adesso metto un altro cancelletto qui così almeno no 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 vabbè faccio così va ho già capito ok un attimino allora ok ok meglio di così ragazzi così sicuro che non escono teoricamente teoricamente non escono da qua no in teoria no vediamo se riesco a fare una roba un po strana però qua non riesce poi vabbè non vi preoccupate che in caso ovviamente off camera il sistema non vi fate preoccupare insomma vediamo se ho finito i cosigni ho finito vabbè comunque direi che ci può stare no? si voi ovviamente se avete suggerimenti a riguardo ovviamente non esitate a appunto commentare che purtroppo io non ho idee al momento e sono un po esterefatto quindi ce n'è senso allora vediamo cos'altro possiamo fare vi faccio vedere che ho fatto un'altra cosa aspetta c'è la porta aperta mannaggia maia no chiusa in tempo venga 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 così almeno quando piove ragazzi vanno dentro quando nevica vanno fuori così via intanto le faccio occupiare che tanto sono piccolini voi ok fate l'amore nulla guerra mi dissocio allora intanto stefanetta ho capito l'amore ah ce n'è già uno piccolino qui che bello bene bene ragazzi adesso vi faccio vedere giustamente quello che ho fatto qua dietro qua chiudo perché vabbè ho fatto oltre a questo che insomma male non fa quasi quasi ne metto anche uno qua uno qui uno su uno sotto uno vabbè insomma più o meno poi finirò di abbellire off camera tipo ho fatto sta stradina così ecco che stefanetta l'alza cappettino anche giustamente ho fatto sta roba c'è un po di ti faccio vedere anche un po te giustamente quasi quasi toglierei sta pietra che effettivamente non mi piace ok che me sono une robe un po che sto non garoon male non mi sta sul cosino eh eh già giustamente comunque nel prossimo gameplay vorrei andare un po esplo explodes esplorazioni eh 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 esatto esatto esplorazione espl horatro expans expans hashtag esplorsazione comunque qua ci faccio una roba così se lo richiede poi non mi fa uscire vabbè dettagli ok a forse mi sono andato male quasi quasi qua lasciamo aperto che dici lasciamo aperto e deve stare aperto dici sì per me sì pur vediamo è giusto per prova eh no ci sta male meglio meglio aperto va un'uscita di qua non c'è vero? ah no c'è qua sotto c'è qua anche qui qua comunque devo un po' sistemare devo un po' abbellire cioè farò la stradina come questa eventualmente allargo anzi comincio già a togliere un po' di questi così almeno mi porto avanti a camera così non vi annoio troppo tanto oggi ci serve a qualche problema quanto vedo però dettagli non ci facciamo domande noi perché giustamente non facciamoci domande dobbiamo dormire tra un po' sai? i mostri sennò fanno una festa comunque io ce l'ho letto adesso te lo do vieni ti ho buttato lì quindi mi serve questo allora uno due ho preso? ok allora ok intanto ci sono delle frecce qui no però qualcosa di strano ho preso cosa sono? ma? cosa c'è? eh? eh è lampione lampione? vabbè vabbè ci sta lampione è figo però eh figo vabbè eh detto questo cosa cosa vuoi asb? svasb? eh asb svasb? eh? tipolla? ho cercato una striscia di blocchi per terra perché non ci sono diventato pieno ehm anche qui lo devo vedere quel goio ok ok mi piace vedere le robe un po' come si deve raga perché non piace troppo il discorso però non ho terra vabbè la terra non ha un problema poi il sistema off camera insomma vediamo se riesco a prendere un po' di terra in casa teoria ne ho vabbè intanto vado in casa a dormire poi se vuoi dormire in stella fai tu fai tu mi prendo giusto un po' di terra no no intanto ci sono i mostri che sento quando vanno dimmi quando stai dormendo eh allora bene prendo un po' tu staccami basta penso ok io dormo se mi arriva il detto ok ok io dormo eh dormiamoci su si si vai tranquillo è che intanto io ci dormo su così almeno passa nooo is no eh eh tutto bene nel server is no white pig eh eh ahia sono i mostri magari non mi fa dormire a me ah eh eh come vado a entrare in casa vuol sapirlo eh bah ok a parte che mi avrà sparito il letto per un attimo oh vabbè dice che sono un mostro ho detto comunque che sono un mostro vabbè ma non mi faccio domande ma ma per come ho tu due lezzi? ma che ne saccio non fare domande nooo 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 allora vado lì avanti appunto a fare cose che poi concludo i gameplay perché vedo che già tempo purtroppo vola via e sapete che è meglio di me che Minecraft è un gioco abbastanza più da live che da video al momento non è al momento perfetto oddio c'è un creeper ma in teoria il creeper non esplode fa il fuoco d'artificio esatto fa il fuoco d'artificio perfetto oggi il server non sta bene? no 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 sta un po' è un po' fatto oggi eh perché mi ricordo che comunque è stato del server questo gioco se volete vabbè no se volete vedere un po' vi consiglio nitrado qui più o meno siamo lì però è un po' complicato inserire le mod e non vi posso fare una guida su come fare perché è un po' è un po' complicato ragazzi eh parecchio complicato allora tolgo anche questo che mi sta sul cazzo ce n'è senso perfetto ragazzi dai allora io vi faccio salutare da Stefanetto voi come sempre se avete consigli domande o cose dubbi non esitate a farlo noi ci vi chiamo presto ragazzi in un prossimo video mi raccomando iscrivetevi lasciate un bel pollizioni su e alla prossima ciao a tutti ciao ciao